Diciamo che in questi ultimi anni la misura amministrativa a cui fa riferimento, che è quella del fermo delle navi, si è sviluppata attraverso diversi strumenti. Quello di cui parlo oggi è quello che è stato introdotto dal decreto 1-2020, che è stato poi convertito in legge, è anche significativo che è stato il primo provvedimento legislativo dell'anno. Il cosiddetto decreto piante-dosi, che penso non possa essere pienamente compreso se non lo si legge nella combinazione tra le norme introdotte e le prassi che sono quelle del Ministero dell'Interno e del Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo Italiano, come quella che citava Juan sui porti lontani. Ci tengo anche a dire che è un decreto che si inserisce, va a modificare quella che era una norma introdotta nel 2020 dal cosiddetto decreto Lamorgese, che costituisce secondo me un po' una sorta di infiorettatura del decreto sicurezza bis del 2019, introdotta dal governo allora PD 5 Stelle. Premetto anche che penso che questa norma stia sostanzialmente, perlomeno in parte e forse in modo schizofrenico comunque, funzionando. E penso che quindi stia avendo un impatto abbastanza importante sull'operatività delle navi e delle organizzazioni della società civile. E noi come parte della società civile ci dovremmo cominciare a interrogare se, come accade anche in altri settori, non ci stiamo un po' incuneando in quella che è, diciamo, la logica del meglio fare poco che niente. Comunque, ad oggi, a dieci mesi di distanza dall'introduzione di questa norma, ci sono stati otto fermi per sei navi, alcune sono state fermate più volte, ma c'è da dire che ogni volta che una nave ONG, almeno questa è la mia impressione, effettua un soccorso o svolge delle operazioni di supporto o tutela della vita in mare, si trova sostanzialmente sottoposta alla minaccia di sanzioni, che non sono sempre applicate in modo prevedibile. E questo perché la norma è formulata in modo molto generico, si presta a un'applicazione, a un'interpretazione molto libera, come effettivamente è successo da parte delle amministrazioni, tanto da essere sostanzialmente uno strumento molto flessibile e adattabile alle esigenze politiche del momento. Faccio degli esempi di quello che dico essere una, diciamo, estrema genericità di questa norma, che come sappiamo prevede un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo, nel caso in cui vengono violate alcune condizioni introdotte appunto dal decreto piante dosi. Per esempio quella di fornire tutte le indicazioni richieste per la ricostruzione delle operazioni SAR, informazioni che vengono richieste durante l'operazione, cioè prima che l'operazione di soccorso si concluda, e che normalmente, forse questo ce lo spiega meglio poi Luca, potevano essere richieste da autorità specifiche all'interno di un quadro di garanzie specifico, come per esempio quello dei poteri della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini di tipo penale. Invece oggi vengono richieste informazioni come, per esempio, la scatola nera che sarebbe, diciamo, pensata per tutt'altro scopo e se non vengono date e nei tempi, diciamo, decisi dall'amministrazione, possono comportare sanzioni come il fermo e le multe. Il porto di sbarco deve essere raggiunto nel tempo più rapido possibile e non si capisce bene che cosa succede se c'è un altro caso aperto, qui nessuno sta prestando assistenza al tema del soccorso multiplo. Non si deve creare pericolo nello svolgimento delle operazioni di soccorso, certamente, ma poi questa norma è stata interpretata in modo assolutamente bizzarro, per esempio, sanzionando navi perché non hanno raggiunto porti notoriamente insicuri come i porti tunisini o non hanno raggiunto porti di destinazione irraggiungibili sulla base del carburante presente a bordo. Non viene presa in considerazione la capacità degli equipaggi di portare avanti navigazioni molto, molto lunghe. Quello che è successo, per esempio, l'altro ieri al veliero Nadir, a cui è stato richiesto inizialmente di raggiungere un porto che comportava due giorni addizionali per una barca a vela di navigazione. Quindi, insomma, il punto principalmente problematico è, diciamo, la disponibilità di un margine estremamente ampio di discrezionalità da parte delle amministrazioni a cui non segue un sistema, diciamo, di rimedi sufficiente, perché invece il sistema previsto dalla norma è estremamente confuso, è lento, ci sono ad oggi praticamente tutti i fermi e tutte le sanzioni, diciamo, che sono state irrogate fino ad oggi, sono state impugnate, sono tutti i procedimenti ancora in corso. Parliamo anche di provvedimenti che risalgono a marzo-aprile di quest'anno, con la minaccia anche della reiterazione, quindi dell'arrivo a sanzioni estremamente pesanti, possono arrivare alla confisca delle navi. Tutto questo, per l'appunto, in un quadro di, allo stesso tempo, dicevo prima, schizofrenia, perché in effetti tutta questa discrezionalità si poteva trasformare in un fermo sistematico di tutte le navi, invece le navi della società civile sono ancora operative, a volte gli viene, anzi, come diceva Juan, richiesto di intervenire, ma, appunto, in questa modalità, per l'appunto, poco prevedibile. In definitiva, vorrei solo fare tre appunti, tre considerazioni di critica rispetto a questa legge, che, in primo luogo, ha a che fare con il soccorso, cioè, non sulla carta, ma nei fatti, solo ed esclusivamente con il soccorso in mare di cittadini stranieri e appartenenti a specifiche classi sociali, quindi trova un'applicazione che, direi, può essere definita senza problemi di tipo razzista. e mi chiedo a chi, diciamo, serva andare a costituire un sistema in cui l'accesso ai diritti fondamentali, come la vita, è così tanto differenziato. È una legge che usa uno strumento, quello delle sanzioni amministrative poco garantista, tipico, diciamo, di quelle misure poco democratiche, che vengono utilizzate in momenti, appunto, in cui c'è la voglia di ridurre le garanzie e, tra l'altro, alla fine è un po' anche inutile, perché va a, diciamo, che, come abbiamo visto, non va a influire sul numero degli arrivi e va a incidere, anzi, su un fenomeno che è quello del soccorso civile che riguarda numeri, comunque, ancora più ridotti in questo campo. Grazie. Grazie.